Non so io dove Una cosa prima a mangiare hai visto sotto? Eh va, puoi vedere la foto Ho visto? Quello? Ho visto anche il teatro Sì Quale l'ho visto? Sì, sì Eh, eh Sura dorme perché è ubriaca Ah, questo è il mio cane, tu l'ho visto? No, hai qui? Eh no, sì che l'ho visto, sì sì l'ho visto Ho visto il mio cane? E questo è il mio cane Eh 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 mai Errruxbolico Frequa Aba e, e ho vosto qui non si chfocused'?" Ce大zi ottidence ci bucklieta in costrbani E caprite pennaten aufocheckati Ne z cois 47 zeικό augone Aglie non cacciant Voi. Ciao si Ciao, ma sembra facolti e quindi? Si non è riuscita? Cacchi che ha il arrio a poco a poco. Non è bene! Ma vediamo a quelle le da sono! Così è? Non, non erano? Non è giusto. Non è giusto, non è giusto. Non è giusto e giusto. Non è giusto... Non è giusto. O è giusto. Non è giusto che il suo attimento. Grazie. 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 Grazie.